Un pensionato di Roma ha giocato una schedina al Super Enalotto il giorno dopo l'estrazione, ha acquistato un giornale locale e nelle pagine che riportavano i numeri usciti si è reso conto di aver vinto ben 64 milioni e 200 mila euro. Ero ormai convinto di essere diventato ricco, ma quando si è recato dal tabaccaio ha avuto l'amara sorpresa. I numeri estratti non erano quelli riportati sul giornale. Il quotidiano aveva pubblicato una sequenza sbagliata. Quella vincita poteva cambiarmi la vita alla mia età. Ho rischiato anche un infarto, ha esclamato l'uomo e chissà che ora non pensi di rivalersi in qualche modo sul giornale che ha pubblicato la sequenza sbagliata facendogli credere che di lì a breve avrebbe vissuto una vita sicuramente diversa.